Per capire se un uomo è davvero innamorato di te, la cosa è più facile di quello che credi. Moltissime persone che sono qua, che mi seguono, sono super super dubitanti all'idea di poter comprendere se lui è davvero innamorato o meno. Non dubitare di te stessa. Prima cosa, dove mi piace sempre andare a parare, spesso ne parlo anche nel videocorso, ne parlo in diverse situazioni, ne parlo spesso, gut feeling, alcuni lo chiamano cat feeling. Ragazzi, non sapete l'inglese, gut, si scrive G-U-T, sarebbe gut, quindi intestino, interiore, lo senti qui nella parte quasi del diaframma, dell'addome. Allora, dov'è che senti questo gut feeling? Ho sentito degli esperti del settore che dicono invece che questo sia una cazzata. Beh, lasciatemi dire che in realtà questa è una cosa che mi è stata intanto insegnata il mio psicoterapeuta circa undici anni fa più o meno, undici anni fa, ok? E mi ha insegnato questa cosa per identificare la squalifica all'inizio della relazione sentimentale, all'inizio della conoscenza, ok? Per identificare dov'è che devo squalificare, dov'è che non devo squalificare. Che significa? Per capire se un uomo è davvero innamorato di me, io devo, sto parlando come donna, quindi per capire se un uomo è davvero innamorato di te, cos'è che devi fare? E che cos'è che facevo io per capire se una donna era davvero innamorata di me? Iniziamo a ragionare con un assetto quindi stile, ok, inizialmente la conosco gut feeling, e seguo il mio gut feeling. Quella sensazione, quel sentimento iniziale, quel gut feeling, mi diceva già di base quello che teoricamente era giusto o meno. Gli esperti del settore qua, che sono qua presenti nella piazzola della seduzione, eccoci qua, we're all the experts and all the shit, whatever you want, ok? Cos'è che dicono? Wow, no, perché poi lì operi con il bias di conferma, no? Che significa? Significa che tu per esempio pensi che lui sia un bastardo? e poi il tuo gut feeling te lo dice che è un bastardo? E tu no, 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 io lo seguo, mi piace, no? Mi piace comunque, non devo assuntire solo l'istinto, io devo vedere anche quello che fa, no? Devo concentrare pure su quello che fa lui, su quello che dice, su come si presenta. Questa è una cavolata, no? Se tu provi a fare una cosa del genere ti ritrovi fregata, perché? L'istinto, quando tu stai conoscendo un uomo, no? Allora per capire se poi è davvero innamorato di te, come che si riallaccia. Nel momento in cui tu lo stai conoscendo, succede questo, tu conosci un uomo come impostazione. Hai una sensazione iniziale, positiva o negativa? Quella sensazione iniziale, se è negativa, non serve che sia confermata. Se è positiva, ricercherai una conferma. Tuttavia, se adesso ti stai chiedendo se lui è davvero innamorato o meno di te, e vuoi comprendere questa cosa, questo problema, vuoi seguire in parte il gut feeling iniziale. Vuoi seguire quindi e ricordarti che cos'è che hai provato nel primo, secondo, terzo appuntamento. Start thinking about it. Incomincia a pensarci. Una volta che inizi a pensare a quello che hai provato all'inizio del primo appuntamento, secondo, terzo, il tuo gut feeling, quindi quello che ti diceva la testa. Ok, mi sembra uno buono, mi sembra uno giusto, mi sembra uno sbagliato, non vedo tanto questo. No, non lo so, ok? Non so se va bene e quindi è negativo. Oppure, credo che questa persona possa andare davvero bene per me. Quell'istinto ti dice esattamente la tua affinità potenziale con quell'uomo ed è più facile dopo capire se è davvero innamorato o meno. Se è davvero innamorato o meno, tu lo comprendi in seguito all'ascolto di quel gut feeling. You need to listen to the gut feeling. You need to listen to it. Lo devi ascoltare assolutamente. You don't listen to it, you're screwed. Se non lo senti, non lo ascolti, sei fregata, ok? Io ho pagato così, si potrebbe dire per fare esempio, per non aver ascoltato il mio gut feeling. Ho pagato per aver ignorato il mio gut feeling. Pagato come? Termini monetariari, per scherzare. Pagato con la peria di tempo e sofferenza. Che comunque mi ha insegnato e mi ha detto, ok, adesso idiota, prossima volta ascolta il gut feeling iniziale, ok? Pensaci 3, 4, 5, 7 volte. Before you do anything. Prima che fai altre cose. Comincia a pensare a che cosa senti. E poi mi chiedo, come faccio a capire se lei, se lui, quindi se lui è davvero innamorato, no? Allora osservavo, no? Nelle mie relazioni passate con le donne. Ok. Gut feeling iniziale, negativo. Vediamo se è davvero innamorato. E allora tu vuoi vedere se uno è davvero innamorato. Attraverso cosa? Atteggiamenti che seguono più o meno i tuoi standards. Atteggiamenti che seguono i tuoi standards significa Io ho standards donna, watching the video, guardo il video del picchianti, comprendo gli standards. Quali sono i standards di questa donna che sta ascoltando questo video in questo istante? Ok. Sei sicura, prima cosa, che questi standards non siano standards tipo dell'1% del range di persone frequenti? Perché se è così, se è psicotica. Conosco per esempio delle... psicotica, scusate per gli esperti, psicoterapeuti, psicologi sedicenti, si intende per modo di dire, ok? Psicotica lo sto usando come aggettivo e lo vediamo anche qua su Google cosa significa, così state tutti tranquilli. Psicotico significa affetto da psicosi o relativo da psicosi, ok? Da un punto di vista clinico. e dicono che il disturbo psicotico è una condizione caratterizzata da una percezione alterata della realtà. What we're talking about, di quello che stiamo parlando. Quindi tendi ad avere un senso di irrealità che genera ansia e requetezza. Psicotica, ok? Quindi, molte persone potrebbero essere definite psicotiche. Tuttavia, questo lo sto usando solo come aggettivo, quindi disclaimer, un aggettivo, eccero, ok? Dovrebbe far intendere quello che voglio dirti. Tornando al discorso, mi riferisco quindi al gut feeling precedente e iniziale e assumo l'idea che io abbia degli standards. Questi standards, se sono eccessivi, sono psicotico, quindi non posso avere eccessivi, devo avere degli standards normali, umani. Esempio standard eccessivo. Io voglio un uomo che faccia esattamente quello che faccio io. io voglio un uomo che sia U, A, B, C, D, I, F, G. No, idiota, no, 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 se tu fai business e vuoi un uomo che sia esattamente come te, no, non è quello che vuoi, perché il tuo range è tipo 0,5%. se tu hai un range 0,5% del pool di tutti gli esseri umani che stanno là intorno o di tutti gli uomini che ti frequentano, tu non uscirai, non frequenterai nessun uomo o comunque non ti accoppierai con nessun uomo perché hai un range a 0,5% ed è tipo troppo basso. What is going on? Cosa sta accadendo nella tua testa? Dove è finito il range migliorativo? basta con queste cose, ok? Quindi il range deve essere qualcosa di più standard del tipo hai un i tre non negoziabili quindi tre cose importanti che per te dovrebbe fare un uomo e che dimostrerebbe quindi di essere un uomo adatto a una relazione e delle linee guida su quello che è la dimostrazione dell'amore e essere in grado con questi occhiacci che hai, i begli occhi, che hai begli occhi. Se hai gli occhi verdi sottoscrivi occhi verdi nei commenti e ti metterò il cuore perché a me piacciono le donne con gli occhi verdi e celesti. Vuoi con questa vista e queste sensazioni vuoi vedere se per caso lui ti sta dimostrando l'amore sotto altri linguaggi, no? Ma questo mi fa tutti i regali materiali. Ma io voglio che lui mi dica le cose a parole. Ecco, lui non è uno che dice le cose a parole. Allora ti devi svegliare e comprendere che in quel caso lui forse è innamorato però sta facendo un overload del suo linguaggio di amore. Sta facendo un sovraccarico di esposizione nel suo linguaggio d'amore. Esempio del picchianti. Come dimostra affetto e picchianti? C'è un altro modo ancora. Corporio fisico tocco molto la persona quasi come quei bambini fastidiosi che a scuola ti toccava sempre sempre a toccare. Io non volevo essere toccato a nessuno però quando tocco una persona sempre mi appiccico proprio dimostrazione di affetto comunque crescente climax ascendente per me più corteggiamento in luoghi che io ritengo altologati per me quindi che piacciono troppo a me altologati per me non significa ricchi luoghi ricconi ma tipo ristoranti posti che io amo che adoro e che voglio condividere con persone solo alcune persone tipo posti dove ci sono cose che faccio solo io mie passioni la porto nel mio mondo ed esagero su questo questo è un modo di dimostrare amore l'altro modo di dimostrare amore soldi spende molti soldi corteggia beni materiali ti dà cose fa cose crea cose per te altro modo è super servile super servizievole ti aiuta e fa tutto il tuo schiavo fottuto il tuo maledetto schiavo no? se è il tuo schiavo maledetto di che stiamo parlando? semplice no? ok dunque vuoi analizzare la cosa sotto diverse sfere diversi linguaggi d'amore base di tutto frequenza se tu non sai cosa devi fare non sai dove andare a guardare frequenza e presenza presenza nel massimale perché se lui ha una disponibilità solo di un giorno a settimana perché fa la gente dell'fbi o perché lavora alla cia ok ok una volta a settimana per lui è il massimale bene però deve essere quello vero non cavolate non che c'ha un'altra famiglia in Svizzera e fa il frontaliero in Svizzera va a farsi la famiglia in Svizzera e poi quando torna in Italia c'ha un'altra famiglia no suo stile no però c'è il film no di Aldo Giovanni e Giacomo mi sa che era così e frequenza unica cosa per capire se è davvero innamorato frequenza quanto è presente quanto è presente quanto è presente quanto è presente basta se stai sbracciando che non capisci niente fermati non ascoltare più le parole ascolta solo e esclusivamente quello che fa e quanto quindi è presente all'interno della tua vita quest'uomo se non è presente e campa scuse per non vederti hai già una risposta seguimi qui su tutti gli altri social Federico Vicchianti in descrizione trovi tutte le informazioni per i miei servizi i miei libri su Amazon il Patreon video risposte canale Telegram ti mando un abbraccio